Cambiare la vita pezzo per pezzo, consigli pratici, esercizi efficaci, si dice e si scrive sia possibile. Cercare situazioni positive, superare momenti no, trovare uno stile di vita nuovo. Le donne di armonia, l'associazione per la lotta dei tumori al seno, per sensibilizzare la prevenzione e la lotta al tumore al seno nella sede dell'IMS affronta il tema l'arte di prendersi cura. Ho finalizzato a sensibilizzare la nostra città alla prevenzione del tumore al seno. L'importanza di oggi è quella di avvicinare le donne all'IMS, perché nel momento in cui le donne vengono operate devono sapere quali diritti, anche da un punto di vista previdenziale, quindi non soltanto medico, ma anche da un punto di vista previdenziale, di quali diritti possono godere, quindi in quale modo lo Stato ci può aiutare. Prendersi cura riveste un ruolo fondamentale, dispessore agli interventi, essendo lo Stato di benessere determinato da un articolato intreccio di fattori, servono linee guida, professionisti della salute, interventi specifici, vari e complementari, incontri, scambi, confronti. Sfileranno tre donne che sono quadri viventi, cioè viene ripreso l'annunziata di Antonello da Messina, la gioconda ovviamente di Leonardo e la ragazza con l'orecchino di perla. Questo perché vogliamo far capire alla cittadinanza l'importanza a di prendersi cura, come dice il titolo della nostra iniziativa, e b l'importanza di essere belle nonostante il tumore. Il tumore al seno è la più frequente neoplasia femminile, la probabilità di guarigione sono tanto più alte quanto più la diagnosi è precoce, serve un'arte per curarsi.